Però, avendo il cartoncino, puoi annunciare, visto che sei tu l'artefice di questo momento storico, a te il privilegio dell'annuncio. Ci vedi? Non ho gli occhiali, aspetta. Guarda, c'è... Scusami, tu non puoi salire, io posso scendere. Guarda che gobbo che abbiamo. Minchia, rubo. Ragazzi, un gobbo così non si è mai visto? No, prima però devo dire una cosa importantissima, insieme al tre. Uno, difficilissima questa cosa. Due, tre, stop al televoto! Chissà chi ha vinto la serata, chissà chi ha vinto. Se vuoi te lo dico subito. Ma perché, come fa? Ma si capisce. Ma cosa? Posso dire due o tre marche? No. Don't worry, be happy. Tutte le parole inglesi che so, quella devo dire. E mi coinvolge, capito? Mi coinvolge a me. Allora, adesso un momento atteso da 27 anni. Ok. Era il 1970, non riesco a leggere lì davanti. Vabbè, tieni. Vai. Era? Perché è brutto che uno sta qui così. Era il 1997, quando hanno vinto il festival di Sanremo, qualche virgola mettiamola. E da allora non sono mai più saliti su questo palco. Punto. Per il piacere dei fan. Virgola. Per il piacere di Fiorello è, a questo punto, puntini, puntini, puntini. Anche per il mio piacere. C'è scritto un po' più giù. Abbasso il gombo. Abbasso il gombo. Anche per il mio piacere. Virgola. Annuncio. Io. Il ritorno al festival della canzone italiana. Calmo. E qui voglio l'applauso più forte del mondo. 27 anni, ragazzi. 27 anni. E sono arrivati dopo la 27esima canzone. C'è proprio... Signori. Guarda, i due direttori già pronti. Due. 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 È la serata delle copie. Alla teatro Ariston. Tornano i... Già vissi! Eccoli! Pijeris! Evviva, evviva! Dopo 27 anni! Standing ovation! Buonasera! Buonasera Sanremo! Grazie. Grazie. Adesso ci vuole l'annuncio, quello da Sanremo. Che codice diamo? Eh, codice... Codice che volete? Sceglietevi voi un numero. Codice 18? 18. Codice 18? No, aspetta, 81 perché il 18 c'è. No, hanno già votato però. Voi avevate il 18 all'epoca? No, non so cosa avevamo. Però il 18 è il nostro numero. Però era il 47esimo festival, questo è il 74esimo, quindi stranamente è fantastica questa. 27, non ho capito niente neanche io. Nenche io. Vabbè, non ho capito. Testo di Alessandra Drusian e Carmen Di Domenico. Musica di Fabio Ricci dirige l'orchestra, anzi dirigono l'orchestra, i maestri Peppe Vessicchio e Leonardo De Amicis. Con Fiumi di Parole cantano i Gialis. Mi aspetto mille scuse, come sempre da te, sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show, cosa c'entra con noi? Provo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so, sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. I fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, se vuoi, ora parla con Lui. Vorrei, vorrei fermare l'immagine, sentire entrare dentro di me, un tuo silenzio più complice, vorrei. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore se vuoi, se vuoi, ora parla con Lui. Fiumi di parole, fiumi di parole. Grazie, grazie grandissimi maestri. Grazie all'orchestra, grazie maestri. Dopo 27 anni tornano sul palco dell'Ariston i gialisse diretti da Leonardo Di Amicis e il maestro Peppe Vesicchio. Grazie. Ciao Fabio. Grazie veramente di cuore. Grazie a voi, grazie, grazie, grazie. Grazie per l'emozione. Ciao Sanremo. Ciao. Ci siamo.